vediamo chi vince questa è una competizione chi perde è stato già stabilito che deve andare se deve lasciare libero strong strong niente siamo in una situazione di stallo quello sta fumando anche la sigaretta vediamo un po intanto vediamo un po cosa vendono cos'è la posta il paio scarpe calzature tutto di marca ecco quello l'ha fregato